max riscrive un brano di gaber trasformandolo in una dedica per una persona importante chiedo scusa se parlo di maria è un momento che diverte giudici e pubblico e lusinga la conduttrice che si sbilancia in affetto nonostante l'imbarazzo quando è il momento di wax ad amici la sua caposquadra risa annuncia una sorpresa il cantante ha infatti riscritto il testo di un brano di giorgio gaber trasformandolo in una dedica per una persona importante chiedo scusa se parlo di maria è un momento che diverte giudici e pubblico e lusinga la conduttrice che al termine dell'esibizione si sbilancia in affetto nonostante un pizzico di imbarazzo nel brano riadattato wax racconta maria dal suo punto di vista la persona che mi ha dato una chance la persona che mi dirà sempre la verità canta maria il sogno la televisione la verità continua punto l'esibizione convince proprio per la semplicità con la quale il cantante esprime un senso di affetto che può sembrar banale ma che in realtà non lo è ma anche per l'essere stato capace di descrivere la figura della conduttrice in quello che è il sentimento comune mi è difficile parlare di maria mi hai cambiato la vita sono le parole che dedica alla padrona di casa che durante l'esibizione si alza per raggiungere il banchetto di wax e sedersi al suo posto per l'esibizione si ad